sono sicurissimo che a molti di voi qualche volta è capitato di andare a togliere quindi trovare l'esigenza di trovare un programma e andare a eliminare un oggetto e non piace magicamente il classico magari dietro che accidentalmente mettiamo davanti la fotocamera e ho una classica cosa proprio che non volevamo mentre stavo scattando quella fotografia e quindi non potendola rifare magari rimane questo oggetto lì che a noi non piace quindi oggi vedremo senza passare soprattutto che la cosa più importante da software veramente complicati quale questo lavoro avvenisse ad esempio il photoshop quindi senza passare da alcun software senza installare alcun programma ora cambiando in guardatura vi faccio vedere come andare a utilizzare un sito che trovo davvero bellissimo perché di solito proprio questi lavori che si fanno di rimozione oggetti sono tutti a pagamento il sito che oggi vi dico quindi già da qua capite che è scritto quindi non si deve installare basta digitare cercare accedere al sito e ringraziamo perché ho davvero fatto bene fino ad oggi è tutto traduto e ripeto sino ad oggi non so quando verrà a pubblicare il sito se cambierà qualche cosa perché ripeto di solito la rimozione l'oggetto e richiede prende software a pagamento questo software grazie soltanto all'intelligenza artificiale e ribadiamo sempre che l'intelligenza artificiale è quando è usata per queste cose nelle fotografie per esempio per l'uso personale è davvero un ottimo lavoro che riesce a fare senza insomma andare cercando programmi di qua e di là e quindi cambiando in quadri vi faccio vedere questo software totalmente gratuito quindi non prendo un altro tempo andiamo a vedere come rimuovere dai dalle vostre fotografie tutti gli oggetti possibili ed immaginate in maniera semplice soprattutto traduita come piace perfetto eccoci qua allora la pagina internet che dovete andare ad aprire e dovete andare a scrivere praticamente come sito è pixelcat.ai quindi ve lo ritroverete direttamente poi accanto vi spuntarà proprio i nuovi oggetti dito il non plus ultra della semplicità perché perché dobbiamo andare o a trascinare la nostra fotografia dove l'abbiamo immagini video salvata nel text dove l'abbiamo noi e l'andiamo a trascinare quindi con il drag and drop oppure direttamente possiamo fare l'upload degli image quindi direttamente andiamo a prenderla dove io per esempio ne ho salvata una quindi in questo caso vado a fare upload image la vado a prendere dove l'ho salvata quindi nel video text farò up e praticamente questa è una mia fotografia poi potete vedere quando io muovo col mouse e già vi metto con un colore più scuro si vede questo cerchetto e si è proprio tra virgolette ammettiamo che sia il nostro pennello per andare a rimuovere l'oggetto ora ammettendo che a me per esempio in questa fotografia non piace proprio questo insomma che c'è qui quindi direttamente cosa si deve fare intanto io posso andare a diminuire quindi potete vedere che il cerchio va a diminuire dipende se dobbiamo fare dei lavori veramente piccolini anche per esempio togliendo un titolo da un dito oppure aumentarlo quindi se per esempio con questo andrà a togliere una cosa di più grande quindi una volta che voi prendete bene la misura quindi non vi preoccupate anche se andrà a prendere un pochettino comunque gli immobili in questo caso nella mia foto perché lui comunque l'intelligenza artificiale riconoscerà che comunque l'oggetto non sarà andare a togliere l'immobile perché se no io avrei preso tutta questa parte mi capisce comunque deve andare a togliere quello che c'è qua dentro al cerchio quindi noi basta che diamo dei clic quindi il primo il secondo il terzo e date ecco per esempio al quinto lui ha riconosciuto l'oggetto e l'ha inserito quindi vi raccomando deve diventare rosso quindi se a primo clic secondo terzo voi date molti più clic appena lui riconosce perfettamente l'oggetto andrà a eliminare non ci rimarrà che cliccare su Apple Magic Eraser quindi Apple prende la cancellazione magica in questo caso quindi se lui fa davvero un ottimo lavoro e riesce a togliere quello di lì magicamente toglierà ecco è scomparso prende il soprammobile e magicamente è andato è andato il programma il software qua online a dare il colore stesso al fondo del mobile però potete capire che non ha dato un colore uniforme ma prende ha dato sia metà per questo scelto questa vuoto sia metà di colore di sfondo che era più chiaro del mobile sia l'ombra del libro se voi ci fate caso qui c'è l'ombra del libro quindi non si vede il classico vuoto all'interno ma proprio sembra effettivamente vero che quell'oggetto lì non ci sia mai stato dopo di che cosa rimane da fare soltanto download e lui ha scaricato presente l'immagine quindi direttamente l'immagine che lui va a modificare sarà quest'ultima questa è l'immagine abbiamo detto iniziale con cui noi siamo partiti con l'oggetto come potete vedere qua l'oggetto invece è scomparso quindi praticamente non lasciando nessuna macchia nessuna traccia quindi il non plus ultra ripeto veramente come conclusione c'è poco da aggiungere ripete questi lavori li fanno programmi come photoshop e come tanti altri che si fanno pagare veramente veramente bene però ovviamente il photoshop fa tutt'altro lavoro oltre che questo non rimuove solo oggetti quindi fa tanto altro lavoro che è giusto che debba essere pagato questo è proprio un sito online che rimuove oggetti che per quello che dobbiamo andare a fare noi molte volte in maniera significativa e soprattutto ripeto gratuita ma un gratuito fatto bene io sono per i programmi gratuiti ma quando viene fatto il lavoro bene sennò diamo spazio a quello a pagamento questo è uno dei programmi che gratuitamente rimuove gli oggetti in maniera perfetta sperando sempre che rimanga ovviamente in maniera gratuita che non utilizza incomincia ad utilizzare credit eccetera eccetera è davvero un programma che vi direi di andare a utilizzare se avete la necessità di rimuovere oggetti e di pubblicizzarli il più possibile perché è veramente un software come avete visto fatto bene proprio non c'è nulla da dire l'unica cosa che vi posso dire è utilizzare ovviamente un certo tipo di accortezza nel rimuovere oggetti perché abbiamo detto che stiamo andando a modificare una fotografia quindi comunque rimuoviamo oggetti comunque da fotografie sempre nostre quindi non andiamo a modificare fotografie di altre persone perché comunque per legge non si può fare perché ognuno può andare a togliere cose per dire qui questa cosa non c'è stata mai questo cartello qui non c'è stato mai dico ecco non andiamo a fare fotografie eliminare per esempio cartelli stradali o chissà che cosa perché è vedatissimo contro legge quindi perseguibile penalmente e civile quindi mi raccomando l'intelligenza artificiale si siamo tutti d'accordo io sono d'accordo però quando si fanno è vero usata per cose che servono comunque soprattutto a noi per uso sempre personale quindi senza darleggiare le cose altrui e mi raccomando sempre se volete come scrivo in ogni descrizione seguitemi se vi fa piacere se vi fanno piacere i video condividete il più possibile il mio canale quindi vedo che gli iscritti vanno sempre crescendo piano 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 ma noi non abbiamo nessuna aspetta quindi ringrazio sempre quelli che mi seguono anche quelli che non mi seguono ringrazio comunque capitano nei miei video e li vedo se avete insomma il piacere di sia seguirmi iscrivervi praticamente e soprattutto condividere e fare buona scelta il mio canale mi farebbe tanto piacere ciao a tutti al prossimo video